Gianni Maimeri, perché questa meravigliosa sera? Perché il legame tra la famiglia Maimeri, la fondazione Maimeri e la musica è un legame strettissimo. Mio nonno è stato un grande artista e una delle sue perle è stata proprio il disegnare dal vivo, in un contesto, nei teatri di Milano, tutti i più grandi musicisti che sono passati negli ultimi, nel cavallo tra le due guerre, dal palcoscenico di Milano che era la capitale mondiale della musica. E questo è stato un elemento che sicuramente ha ispirato questo progetto. L'altro elemento è proprio il rapporto che si è creato con il musicista Piero Salvatori, che è un grandissimo musicista e meritava tutto l'aiuto possibile per ottenere il successo che questa serata decreterà. Non ce n'era bisogno perché è molto conosciuto a livello di musica jazz, di musica classica, di musica creata per esempio per bolle piuttosto che per altri grandi interventi, ma diciamo che questo è proprio il suo regalo alla città di Milano e la fondazione è il medium per raggiungere questo obiettivo. Grazie a tutti.